...di importazione, per favore, del basso bottone di importazione... ...di importazione. ...dare con i bambini... ...ghi, direi che anche l'esploramento la plancia di Terni... ...di parte di Promised Salto... Eccolo, ecco la partenza, rotta lunga, attenzione scende e perni, 123 km in percorso, un percorso lungo, 92 km in percorso medio, passiamoci a tre tappeti, passiamoci a tre tappeti, siamo in tanti, tanto nel maglio che si mette il nome, tanto nel quesito fermi, praticamente è molto in palla, grande partecipazione, in avanti con l'astunta, ma già li vediamo allungati, ripartono ovviamente un po' in discesa ora più in piedi del centenario attraverso Ponte di Cave per affrontare il tratto che porta alla maratana, ecco a quegli altri, c'è tre tappeti, sicuramente, anche lo strappo al polpaccio, esercito che sempre circondi per forti, lo ricordiamo, ci sono tanti tutti da Nassiani, Balonciore, c'è il gruppo a back motion, belli compatti, tutti vicini, daestro ma come sempre, un grande numero, c'è il GMT di Terni, due minuti insomma. Quanto non hanno in vicino lì, senza armarefice, parte un po' dietro, forza Alessandro, caraggio. Bappi, c'è il GMT di Terni, anche lì, chiaro, non ha in vicino lì, petto non ha in vicino lì, e poi pungiamo da me, non ha in vicino e in vicino lì, sono un bel fill, sta in vicino lì, e penso, e quindi c'è lì, bene, no, vado a prendere la dimensione, e poi ditta, Ora gruppiamoci però eh! Grazie!